Bunga E non importa chi tu sia Non importa che lavoro tu faccia In questi tempi di crisi è importante Ridere, sorridere e festeggiare E allora festeggiamo Io, tu, Lele, Fede Tutti quanti Ma soprattutto Io so 5 kg e 3 15 kg e 14 kg sono a 4 e 14 euro e 10 centesimi, 14 euro e 10 centesimi, la superprinta è sempre della sua stanza, ci abbiamo scontato ovviamente vedendo quello che compare, però si è cazzata la vita, il peso sono a 5.3 euro, se vuole che non interessa, gli dai 23, 23 euro, 22 euro, se non interessa 22, gli avrei portato, si resta 22 euro, 20 euro almeno, ci c'è interesse, siamo a 18 euro, siamo a 18 e 100, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 18, 90, 19 di qua, 102, 3, 4, 19, 40, sono a 4 e 14 euro e 10 centesimi, 14 euro e 10 centesimi, la superprinta è sempre della sua stanza, ci abbiamo scontato ovviamente, vedete quello che compare, non si è cazzata della vita, il peso sono 5.3 euro, se vuole che non interessa, gli dai 23, 23 euro, 22 euro, se non interessa 22, gli avrei portato, interessa 22 euro, 20 euro almeno, ci c'è interesse, siamo a 18 euro, siamo a 18 e 100, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 18, 90, 19 di qua, 102, 3, 4, 19, 40, di qua, ma ne lo pensi che sono 5, 3, 15, 13, 14, sono a 4, ma ne 14 euro e 10 centesimi, anche, le diametri a 14 euro 10 centesimi, la superprinta è sempre della sua stanza, ci abbiamo scontato ovviamente, vedete quello che compare, non si è cazzata la vita, il peso sono 5.3 euro, se vuole che non interessa, gli dai 23, 23 euro, 22 euro, Siamo a 18 euro, siamo a 18 e 100, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 90, 19 di qua, 102, 3, 4, 19, 40, 15, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 15, 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 15. Ma già gli andieri, sono 15, 15, 15, 15, 15, 15 i perdonati. È un po' la trattata, quindi lo prenderai rispetto ai 3 le 20, 23, 23 euro, 22 euro, 22 euro, 20 euro almeno che c'è, siamo a 18 euro, siamo a 18 centri. In votazione l'emendamento 6.21, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene è approvato. 6.303, chi è favorevole, chi è contrario è approvato. 6.23, chi è favorevole, chi è contrario è approvato. Per fortesia, eh no colleghi, colleghi, allora la presidenza si è espressa, si è espressa molto chiaramente. Io proseguo nelle votazioni, proseguo, proseguo nelle votazioni, no, proseguo nelle votazioni. La presidenza si è espressa, ho detto che è stato informato il presidente Schifani. Proseguiamo, proseguiamo nelle votazioni. 6.304 è inannissibile. 6.305 è inannissibile. 6.306, no, Rennini, no, 6.306 è inannissibile. 6.307, parere contrario, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene non è approvato. 6.24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene non è approvato. 6.308, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene non è approvato. Per fortesia, la presidenza si è... 6.306, no, Rennini, 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 Per il copo dell'Africa Bunga bunga con le re Bunga bunga con fede Se non sto attento vai in galera Per il copo dell'Africa E non importa chi tu sia Non importa che lavoro tu faccia In questi tempi di crisi è importante Ridere, sorridere e festeggiare E allora festeggiamo Io, tu, Lele, Fede Tutti quanti ma soprattutto